Il Teramo nelle ultime partite mi sembra di aver visto un'involuzione, mi sembra di aver visto un'involuzione, a parte la partita fuori casa, vedo in mezzo al campo una squadra con pochissime idee, poco fraseggio, sia in fase di interdizione che in fase di impostazione. Una squadra a me sta veramente male, secondo me con alcuni giocatori sopravvalutati e quando è così bisogna stare molto attenti perché può essere un'annata molto pericolosa. Quando ti parlo di alcuni giocatori sopravvalutati ti parlo anche del reparto difensivo e del reparto offensivo. Perché ti dico questo? Perché a Teramo si è parlato sempre di alcuni difensori, senza fare nomi, che sembravano destinati alla B e alla A, però poi sostanzialmente vai a vedere se sono dei normalissimi giocatori di Lega Pro. Però lo stesso discorso vale davanti, dove ci sono buonissimi giocatori, perché io reputo Bernardotto, un grandissimo attaccante per la categoria, però quando in una squadra metti troppe scommesse, troppi giocatori che vengono da un'annata difficile, le scommesse ne puoi fare una, due, non quattro, cinque, solo in un reparto. E davanti ci sono tante scommesse di giocatori che l'anno scorso non avevano fatto un buon campionato. Senti, ma sul Ricchio, che mi dici? Se era un ragazzo del 2004-2013, dicevo, deve crescere in prima squadra e magari si ritagliava il suo spazio. Ma essendo un 2006, deve andare altrove a cercare le sue fortune. Poi la formula o il modo non è importante, perché sia a me che al ragazzo non ci interessa la palla, l'aspetto puramente economico, ma ci interessa solo l'aspetto tecnico. Quindi per me se lo vogliono dare in presto, lo vogliono dare definitivo, lo vogliono dare in una sorta di compartecipazione, un riscatto, contrescatto, e cavoli vari, per noi non è importante. Per noi quello che è importante è che il ragazzo vada a giocare. E oggi per lui, secondo me, rimanere nel Teramo si sta perdendo un giocatore, si sta facendo un grosso danno. Il ragazzo deve andare via.